Adesso sono assolutamente onorato di presentarvi Mario Calabresi che è il caporedattore della Repubblica e ha avuto un grande ruolo nella creazione del Media Award, è parte della giuria e Mario sarà accompagnato da George Steinmetz, un fotografo del National Geographic e il New York Times e ne ha anche altre pubblicazioni. E' il vincitore del Media Sustainability Award del 2017. George è un grande fotografo indipendente con 30 anni di esperienza e l'ha lavorato per il National Geographic, Time Magazine, Time Fortune, varie riviste, varie quotidiane. L'idea di questo pomeriggio per i prossimi 20 minuti è di raccontarvi la storia che sta dietro le immagini di questi progetti super size che hanno vinto il premio dell'anno scorso e che hanno ricevuto anche una copertura dal Time Magazine. E' specializzato in fotografia aerea e prende immagini dai parapendi, dai droni e anche dagli elicotteri, giusto? Sì, mi pare di sì. Allora, incominciamo con la prima immagine. Questo è George. George è stato arrestato e la prima domanda è perché sei stato arrestato e dove? Stavo lavorando per il National Geographic su un pezzo delle esigenze future dell'umanità e sono andato a fare delle fotografie a un campo di grano dove venivano prodotti in mangini. Io ho fatto delle fotografie e un mio amico cinese mi ha chiamato per dirmi che erano tutti preoccupati delle fotografie che io stavo prendendo e che io dovevo avere un'autorizzazione in America. Non abbiamo bisogno di autorizzazione per fare fotografie, ma quando io sono atterrato effettivamente io sono stato arrestato, ho presentato la mia carta d'identità, ma tutto è stato sequestrato e a me hanno portato in prigione a Kansas City, in Kansas. Sono stato lì 4 ore, c'era l'aria condizionata, quindi non sono stato così male. Io sono stato in Libia quando c'era Gaddafi, in Iran sono stato arrestato tre volte in Iran, ma non sono mai stato messo in prigione. E' stato veramente una sorpresa per me. Ero in macchina e ho chiesto che cosa mi stava succedendo quando mi stavano portando in prigione e mi è stato risposto che era per agrosicurezza. Ho chiesto di che cosa si trattasse, del perché. Questa era la foto che io avevo preso. In America questo è un campo di media grandezza, di media dimensione e c'era una fattoria dove venivano cresciute, allevate queste vacche, queste mucche bianche che vedete come dei puntini sulla fotografia. Hanno pensato che io fossi di Greenpeace o stessi cercando degli animali morte. Comunque io invece ero più interessato a vedere come venivano allevate queste mucche, vedete appunto le riserve d'acqua per il rigario, per dare da bere a questi animali. Quando e perché hai deciso di parlare di sostenibilità alimentare? Beh, come giornalista devi sceglierti un argomento. È una storia più ampia di così. Io ho continuato con questo progetto in Brasile, in Cina, negli Stati Uniti e ho cercato dei sistemi alimentari più intensivi, quelli che si chiamano negli Stati Uniti, che fanno vedere esattamente come viene prodotto il nostro cibo. Io non sono un vegetariano, però penso che abbiamo tutto il diritto di sapere come venga prodotto il nostro cibo. Quanto tempo è durato il progetto Supersize? Beh, siamo andati avanti per circa un anno e ho scelto gli Stati Uniti e ho scelto anche i produttori più grossi, di più grossi dimensioni e ho scelto gli esempi più ampi per vedere i metodi, appunto, e per documentare i metodi industrializzati. Vediamo alcune delle tue fotografie del progetto Supersize. Spiegaci di che cosa si tratta. Questo è un allevamento di tacchini ed è sterminato, enorme. Beh, è medio, di media dimensione, una dimensione familiare, così c'è gestione familiare di questo allevamento, è di dimensioni completamente medie, nell'Iowa. Se si va in un grosso allevamento è un ambiente totalmente diverso, impressionante. Beh, mi hanno permesso di prendere fotografie perché pensavano che fosse la mia curiosità di prendere fotografie, altrimenti è piuttosto difficile fare fotografie in questo tipo di ambienti. Questo è Wisconsin, il cranberry è un raccolto di cranberry e l'80% di queste bacche viene cresciuto, viene coltivato negli Stati Uniti e i dividendi sono basati su un sistema economico molto simile a quello comunista, molto strano per gli Stati Uniti. Sì, è assolutamente straordinario, però queste bacche, forse ci sono circa 20 tipi di queste bacche e vengono usate per esempio per i tacchini, sono come dei mirtilli rossi praticamente, anche i miei figli li mangiano, comunque è affascinante come vengono coltivati, praticamente galleggiano, ci sono delle macchine speciali e questi mirtilli rossi e questi mirtilli rossi vengono raccolti, praticamente pompandoli sui camion. Questo è favoloso, fantastico, una fotografia incredibile, è un'immagine tra le più impressionanti nel tuo lavoro, ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Questo è uno dei più grandi allevamenti, zone di produzione di latticini, ci sono le mucche da latte che vengono portate all'età di produzione, ci sono come delle scatole in cui vengono appunto allevate, questa è una delle raccolte più numerose, hanno circa 1200 mucche da latte ed è così che vengono allevate, in questi box molto ridotti di dimensioni. Ogni volta che io vedo del latte in un tetrapack per esempio, penso a questo genere di allevamento, anche qui bisogna avere dei permessi per fare delle fotografie, ecco perché sono andato lì in elicottero perché volevo essere in grado di fare delle fotografie aeree e naturalmente si sono lamentati anche di questo, si sarebbero lamentati anche di un drone o di un parapendio ma è l'elicottero più normale. Quando eri sull'elicottero avevo le gambe che penzolavano giù fuori dalla porta, no, 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 io ho uno stabilizzatore speciale che mi evita di far vibrare la telecamera o la macchina fotografica, bisogna avere gli strumenti giusti e anche per gli elicotteri ci sono gli strumenti giusti da usare. Questo è un campo di lattughe, sempre negli Stati Uniti, il 30-40% della lattuga negli Stati Uniti viene prodotto qui ed è molto specializzato, ci sono otto diverse varietà di lattuga e maturano esattamente nello stesso giorno e vengono in scatolate e mandate al mercato tutte insieme. L'agronomia, ci vuole un altro livello di specializzazione in agronomia per gestire un'azienda di questo genere. La scienza che vi piace al cibo o no, che c'è dietro a questo cibo è veramente di altissimo livello, come si può gestire un alto numero di mucche da latte o un campo di lattuga di questo genere? Questo è stato fatto in California, io non sono un nato come agricoltore tra le altre cose. Questa è la più grande nave per la pesca, nave da pesca negli Stati Uniti e qui si vede quella che si chiama una specie di presa che appunto porta il pesce dalle coste e in due ore il pesce viene caricato a bordo, viene trattato, manipolato, pulito e preparato per il mercato. Questo si tratta dell'Oregon, la costa dell'Oregon, quindi l'Oceano Pacifico. I piccoli pescherecci non possono competere, è una competizione praticamente che non esiste. Questo era di dimensioni assolutamente incredibili, ma è molto difficile entrare su un peschereccio di questo genere. Questo è Cina, questo non è il progetto Super Size, è un lavoro che ho fatto per il National Geographic sulla Cina che è un grande importatore di cibo e questo è un macello. C'erano moltissime persone, decine di persone che lavoravano qui dentro, vengono macellati i maiali. E' stato molto difficile arrivare tra le altre cose in Cina e arrivare dentro questo macello perché non riuscivo neanche a vedere le cose, figuriamoci a fotografarle. C'erano delle montagne di maialini che chiudevano gli spazi e non si potevano neanche passare. E poi si potevano anche dei passaggi dove c'erano dei vetri e si poteva vedere. Sapete, nel giornalismo è molto difficile, però bisogna trovare il modo di intrufolarsi. E questa è in una zona della Cina dove ci sono queste colline, hanno un problema davvero dal punto di vista della possibilità di coltivare il cibo perché la maggior parte della terra non è arabile e quindi trovare delle cose di questo genere è abbastanza normale, difficile meccanizzare e quindi le proprietà sono piccole e non è possibile fare come negli Stati Uniti che si centralizza la meccanizzazione dell'agricoltura e qui è difficilissimo. E poi ovviamente sono piccoli proprietari, hanno per esempio 2-3 ettari l'uno e quindi è assolutamente difficile riuscire a meccanizzare tutto questo. E questo è il mercato del pesce in Bangladesh, a Chiragong, e in effetti loro dipendono da cibo che viene dal mare e quindi anche le esportazioni sono un problema. Come potete vedere anche qui non c'è nulla di centralizzato, sono tutti piccoli commercianti, eccetera. E' l'ultima foto questa, ecco, no, no, questo è quello che ho fatto con i soldi che ho guadagnato con questo premio. Mi piacciono moltissimo i progetti sul cibo e trovo assolutamente affascinante capire come viene coltivato il cibo. Questa è stata un'immagine che ho scattato in agosto in una zona vulcanica e ci sono appunto delle piccole isolette per conservare appunto la umidità per permettere la coltivazione. E questo è suolo vulcanico, vero? È lava? Sì, sì. E qui invece siamo in Olanda, una foto scattata in ottobre ed è un'azienda che fa una serie di erbe per gli chef europei e c'è un assorbimento per esempio di luce, quindi ci sono tutta una serie di illuminazioni particolari quindi attraverso la luce LED per esempio riescono a produrre raccolti con coltivazioni idroponiche più velocemente. E qui invece sono le coltivazioni di cavoli in Olanda, ho una foto che ho scattato in ottobre e in effetti vedete è una zona blu, strano che siano cavoli e che sembrino blu, no? Ecco, una cosa che mi affascina è vedere come artista, come è possibile manipolare la natura semplicemente per nutrirci. Quali sono le prove da superare principali per riuscire a sviluppare un progetto come questo? Avere accesso alle zone è difficile, per esempio se io voglio sapere di più di come si mangia in India, come si coltiva in Africa, eccetera, devo trovare degli esperti, però poi avere accesso è molto difficile, devi essere nel posto giusto, al momento giusto, per esempio i raccolti cambiano a causa di cambiamenti climatici e poi ci sono tutta una serie di difficoltà per esempio ad entrare negli allevamenti, è stato un progetto di un anno, però è anche un progetto stagionale. Sì, in effetti l'ho fatto per il National Geographic, però naturalmente tutti mangiamo, ci sono storie diverse da raccontare, volevo naturalmente parlare e continuare a fare un libro senza fine su quella che è la possibilità di avere accesso al cibo. Cerco per esempio di studiare la situazione in Stati Uniti, Cina, Brasile, l'Africa, l'India, mi affascina molto l'economia, praticamente si sta sviluppando alla stessa velocità della Cina, però per esempio l'India è autosufficiente perché la maggior parte delle persone è vegetariana e per esempio voglio capire di più della metodologia per la coltivazione del cibo, per esempio degli alimenti, per esempio vai per esempio a Nigeria, ci sono tutta una serie di possibilità di coltivare cibo e quindi sto cercando di trasformare questo progetto a livello mondiale. Alla fine di questo progetto sei un reporter, ma adesso sei anche un esperto a livello di cibo, proprio a livello di queste prassi ipermeccanizzate di enormi dimensioni in agricoltura. Quali sono le tue preoccupazioni? C'è una cosa che mi disturba, io credo che stiamo evolvendo in modo duplice, da un certo punto di vista ci sono tutta una serie di commodity per quanto riguarda per esempio il grano, il frumento, ma però poi d'altro canto abbiamo dei cibi che sono diciamo cibi da boutique, le fotografie che ho fatto per esempio in Italia sulla produzione del parmigiano reggiano, c'è tutta una serie di cose da dire relativamente alla specializzazione e dalla produzione del cibo, quindi bisogna tenere in considerazione queste cose nel mondo. L'ultima mia domanda è questa. Allora, dacci tre consigli, che cosa potresti appunto consigliare ai giovani giornalisti, fotografi, reporter che vorrebbero fare per esempio il tuo stesso lavoro? Se volessero fare il tuo stesso lavoro, che tipo di approccio consiglieresti loro di avere? Ecco, quando stavo studiando questo progetto, direi che il consiglio migliore da dare è cercare nutrire globalmente, ma agisci localmente e poi anche cercare di raccontare quelle storie che non sono ancora state molto raccontate, direi per esempio io mi sono assolutamente sorpreso quando mi sono reso conto che la gente non sa come mangia e perché mangia e allora ho voluto raccontare quelle storie, cioè trovate la storia, diciamo. Grazie, grazie a tutti e grazie a Giorgio.